Musica Ben trovati con questa nuova edizione del nostro telegiornale La politica in apertura è una giunta senza peso politico e come tale non può garantire nessun risultato per la città Il parlamentare Ars Michele Mancuso l'ha spiegato a margine dell'incontro organizzato in città dai forzisti per i tradizionali auguri natalizi Il parlamentare azzurro non ha escluso alcune ipotesi per il futuro politico del centro-destra considerando anche la possibilità di riproporre una mozione di sfiducia Una scelta irrevocabile dovuta all'impossibilità di lavorare nell'interesse della città Un addio alla coalizione Arcobaleno che Forza Italia conferma con forza proprio nel giorno in cui il sindaco ufficializza la nuova squadra di governo e accusa gli ex alleati in responsabilità Il parlamentare Ars Michele Mancuso ha spiegato le dinamiche del divorzio con Greco a margine dell'incontro organizzato in città dai forzisti per i tradizionali auguri natalizi Gli azzurri se ne sono andati alla giunta e ora sono opposizione al sindaco Greco che hanno sostenuto fin dall'inizio del progetto Arcobaleno Noi abbiamo preso una decisione irrevocabile ma perché ci ha portato lui a questa decisione dopo aver fatto tanti sacrifici, dopo averlo fatto sindaco di questa città devo dire che in seguito alla situazione amministrativa abbiamo toccato con mano che veramente non c'era da dove andare e da dove ricominciare Il suo civismo di cui è stato poi vittima e lo dimostra oggi il fatto che va a ricomporre una giunta che non ha assolutamente nessuna rappresentanza con tutto il rispetto per gli assessori a cui io faccio gli auguri di buon lavoro nell'interesse della città però quando si rimane fuori dal giro di tutti i partiti un motivo ci sarà sicuramente rispetto a quello che era successo nel passato Abbiamo fatto sacrifici enormi, abbiamo messo da parte simbolo abbiamo messo da parte ogni desiderio e ogni aspirazione pur di lavorare nell'interesse della città di Gela vuol dire che da adesso cominceremo a rifarlo e lo faremo sicuramente vincenti per le prossime elezioni amministrative Mancuso non vede troppi spiragli per l'avvocato greco che dopo il varo della nuova giunta sta cercando di arrivare a una soluzione praticabile che eviti il dissesto Secondo Mancuso non serve una legge salvagela ma una progettualità differente che rilanci il territorio locale Sto arrivando a Gela dopo una riunione col presidente della regione dove uno dei temi principali di cui abbiamo parlato è stato proprio Gela Gela perché è collegata a una tematica importante e attuale di questi giorni che è quella degli aeroporti Io ho fatto prendere l'impegno alla giunta e quindi al presidente Schifani e sarò promotore di un emendamento nella prossima finanziaria quindi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane dove chiederemo al governo regionale di intervenire sul governo nazionale affinché il prossimo lotto di lavori dell'ANAS della Siracusa Gela parta da Gela affinché finalmente l'aeroporto di Comiso diventa strategico nell'interesse di questa città, di questa intera area che ci appartiene che è quella della provincia di Caltanissetta e anche della provincia di Agrigento Noi siamo sempre stati concreti non esiste un decreto salvagela esiste e deve esistere una squadra di persone libere che abbiano prospettive, che credono nella politica al servizio delle persone che si mettono a lavorare per la città di Gela ed è quello che Forza Italia intende fare appunto qui Il parlamentare azzurro ha incontrato gli esponenti locali del partito e non ha escluso alcune ipotesi per il futuro politico del centrodestra considerando anche la possibilità di riproporre una mozione di sfiducia sulla quale i berlusconiani avevano invece inizialmente manifestato una certa freddezza Io ho sempre sostenuto che non va bocciata la volontà popolare è chiaro che le dinamiche che si sono evolute in queste ore, in questi giorni porterà sicuramente alla riapertura di un dibattito politico all'interno del partito e con gli altri partiti vedremo quello che succede È stato uno dei temi posti ieri nel corso della conferenza stampa di presentazione della Giunta il sindaco Lucio Greco ha spiegato che è in corso la valutazione sugli atti finanziari dell'ente comunale e allo stesso tempo contro il rischio di sesto ha invitato la politica regionale a interessarsi alla città anche con una norma ad hoc Un governo di responsabilità, così ieri si è espresso il sindaco Lucio Greco presentando la nuova Giunta, quella che dovrebbe arrivare a fine mandato L'accento l'ha posto volutamente sul concetto di responsabilità davanti ad una situazione generale dell'ente che non è per nulla semplice Il sindaco l'ha detto espressamente sapendo che gli assessori dovranno sostenere oneri di un certo peso L'obiettivo prioritario rimane la salvaguardia degli equilibri finanziari il dissesto è da evitare da questo punto di vista nessuno tra gli alleati segue un tracciato differente ci sono contatti in corso con diversi consulenti che stanno valutando le carte dell'ente con una nuova giunta quasi per nulla politica Greco si è già però rivolto alla regione l'ha fatto prima ancora di presentarsi alla città con la nuova squadra in una situazione di questo tipo ha detto ieri in conferenza stampa la politica regionale deve aiutare la città ha ricordato la vicenda del comune di Catania la legge ad hoc predisposta è consapevole che il peso del comune di Catania sia differente rispetto a quello di palazzo di città però secondo Greco c'è la necessità di una norma per Gela l'esigenza è di liberare l'avanzo garantito dalle royalties si tratta di fondi con destinazione vincolata ma una norma ad hoc potrebbe consentire al comune ad altri enti comunali che ricevono royalties estrattive di avere molti più margini ed evitare situazioni come quella che si affronta adesso per responsabilità che secondo Greco non sono della sua amministrazione il sindaco ha fatto capire che ci sono interlocuzioni aperte con Palermo ha riferito che gli è stata data disponibilità secondo la sua valutazione infatti si tratta comunque di somme che spettano al comune anche mercoledì mentre era in chiusura la trattativa per la nuova giunta l'avvocato ha avuto incontri con i consulenti che si stanno occupando della vicenda a bilancio a questo punto anche sulla scorta del nuovo perimetro della giunta è probabile che qualche spinta in più per una norma che possa evitare il dissesto giunga dai riferimenti regionali dell'MPA e da quelli di centrodestra con i quali il sindaco e le sue entourage continuano a mantenere rapporti politici il primo cittadino comunque ha fatto un nuovo appello al senso di responsabilità rivolgendosi a maggioranza ed opposizione Iniziativa del coordinamento Comitati per la Salute Sicilia che alla vigilia delle feste natalizie ha tapezzato le porte dei presidi sanitari e territoriale della città con lettere a Babbo Natale con cui si chiede ciò che effettivamente in Sicilia a prescindere dai governi in carica è diventato un miraggio una sanità efficiente, pubblica e gratuita, accessibile a tutti un piano di reintegro degli organici e del personale sanitario presidi sanitari, punti nascita in ogni territorio un riconoscimento di zona disagiata per le aree interne e le isole il coordinamento Comitati per la Salute Sicilia a cui aderiscono comitati sfarsi per tutta la regione ha voluto con un'iniziativa ironica mettere al centro delle priorità politiche e sociali siciliane la gravissima emergenza in cui versano i territori siciliani è causa di una gestione fallimentare della sanità il laboratorio politico progressisti e rinnovatori contesta l'intesa raggiunta tra lo Stato e la regione Sicilia firmato dal governatore Schifani che concede 200 milioni di euro alla Sicilia ma rinunciando a 9 miliardi nel cui interno ci sono le compensazioni dovute a Gela ci sono servizi essenziali, le bonifiche che spettano la città è un patto scelerato che affonda la Sicilia su cui anche la politica locale dovrebbe aprire gli occhi l'ha detto l'ex parlamentare Donegani ha riunito diversi aderenti al laboratorio politico progressisti e rinnovatori per denunciare che il Salva Sicilia firmato al presidente della regione Renato Schifani di fatto affonda l'isola l'ex parlamentare regionale Miguel Donegani contesta un'intesa su base nazionale che concede 200 milioni di euro alla Sicilia di fatto rinunciando però a 9 miliardi al cui interno ci sono anche le compensazioni dovute a Gela ci sono i servizi essenziali e le bonifiche che spettano alla città nelle scorse ore in commissione bilancio all'Ars è stato bloccato il provvedimento di variazione per introitare i 200 milioni grazie all'intervento dei parlamentari di Cateno De Luca del PD e del Movimento 5 Stelle ma secondo l'ex parlamentare Dem resta il patto scelerato tra Schifani e il governo nazionale su cui la politica locale dovrebbe aprire gli occhi in quei 9 miliardi che la regione rifiuta prendendo le 200 ci sono gli anni di pagamento di tasse dei siciliani e dei gelesi in termini sanitari e di servizi la regione ha pagato il 49 invece del 42 e 700 milioni per ogni anno dal 2007 al 2022 sono soldi siciliani dei gelesi quell'accordo Schifani non lo può fare contro i siciliani e contro i gelesi i gelesi hanno pagato e pagano servizi sanitari e lì ci sono anche i soldi delle compensazioni quindi quel provvedimento che oggi Falcone ha ritirato in commissione dopo una guerra dei parlamentari in commissione parlamentare scusate il gioco di parole non è finita perché la volontà di quel governo è ancora di incidere e di portare avanti quei 200 milioni perché servono a Schifani per compensare le 800 milioni di debito che la regione ha sangiti dalla Corte dei Conti per recuperare un danno creato dal governo musumeci che non possono pagare per colpa di musumeci e di Schifani né siciliani e né gelesi quindi il dato è serio il laboratorio ha chiesto un incontro alle commissioni competenti all'Ars e prende posizione anche contro l'autonomia differenziata sulla quale spinge il governo nazionale Noi abbiamo le idee chiare su come fare e su come promuoverlo come laboratorio per progressisti e rinnovatori già abbiamo preso contatti con i parlamentari con i colleghi miei ma anche le forze politiche chiederemo un incontro a gennaio per capire lo stato dell'arte non soltanto di 9 milioni di euro ma come il governatore della regione Sicilia intende muoversi rispetto all'autonomia differenziata cosa sta facendo per quanto riguarda i LEP i livelli essenziali di prestazione perché lì nei LEP, nei livelli essenziali di prestazione sia il sindaco di Gela che i presidenti della regione dovrebbero mettere e anteporre i servizi dei siciliani i servizi dei gelesi prima di qualsiasi altra questione A Palazzo di Città intanto in queste settimane si cercano soluzioni per evitare il dissesto il sindaco greco ha esplicitamente chiesto un aiuto alla politica regionale con una norma DOC sulla scia di quanto fatto dallo Stato per Catania un errore secondo Donegani L'interlocuzione è sbagliata io non posso chiedere alla regione di fare un provvedimento salva Gela quando è di competenza dello Stato è lo Stato che deve salvare eventualmente i comuni dal dissesto e poi è paradossale che un comune che è in dissesto chiede alla regione che è in dissesto di salvare già se stessa prima dovrebbe salvare se stessa la regione prima che salvare il comune di Gela c'è la regione che fa un corgordato un negoziato dove prende 200 milioni invece che 9 miliardi io chiedo alla regione che sta cercando di salvare se stessa di salvare me sono molto confuso e non rientra tra i progetti finanziabili con fondi PNRR sul progetto innovativo della produzione di biometano del Forsu la società impianti SRR si prepara al ricorso si ritiene che il ministero abbia usato criteri errati di valutazione un impianto innovativo per produrre biogas dalla lavorazione dei residui solidi urbani della raccolta differenziata il cosiddetto Forsu lo scorso marzo è il progetto previsto nella piattaforma di Timpazzo e tutta la documentazione annessa erano stati trasmessi da impianti SRR al ministero dell'ambiente per dare seguito ad uno dei bandi del PNRR e ottenere un ingente finanziamento da circa 27 milioni di euro nella gradatoria definitiva stilata dai funzionari romani il progetto risulta però fuori dall'elenco di quelli finanziabili un risultato che secondo i vertici di impianti SRR sarebbe da debitare ad un'errata valutazione dei criteri previsti nel bando l'amministratore della società in house l'ingegnere Giovanna Picone vuole approfondire non solo ha dato mandato ad un legale che anzitutto avanzerà richiesta di accesso agli atti per analizzare con attenzione i criteri adottati nella valutazione ed è autorizzato a proporre il ricorso contestando la graduatoria stilata dal dipartimento di sviluppo sostenibile per la società in house si tratta di un progetto molto importante nel ciclo della sostenibilità e ottenere il finanziamento diventa dirimente per realizzare l'impianto da una prima verifica condotta sull'esito comunicato dal ministero sarebbero emerse anomalie nel punteggio complessivo assegnato al progetto per il biogas ritenuto fin troppo basso rispetto ai parametri del bando e degli allegati impianti SRR intende garantire la piena configurabilità dei criteri dell'economia circolare con la produzione di biometano dalla frazione organica dei rifiuti si otterrebbe combustibile per alimentare i mezzi del servizio che vengono usati nelle attività svolte nei comuni dell'ambito il nuovo servizio rifiuti della società entro il prossimo febbraio dovrebbe prendere il via anche in città ma non è stato ancora sottoscritto il contratto attuativo il carburante sotto prodotti di qualità inoltre verrebbero destinati pure all'agricoltura e comunque abbatterebbero emissioni produzione di compost e ulteriori rifiuti si ingenererebbe un ciclo considerato virtuoso per autoprodurre quasi tutta l'energia necessaria al processo utilizzando vettori anche rinnovabile per catturare la CO2 sprigionata nel processo di upgrading del biogas sono otto i progetti che la società ha inoltrato per cercare di accedere ai finanziamenti del PNRR rispetto a diverse emissioni da tempo il manager Picone e i responsabili tecnici della piattaforma di Timpasso tra gli altri capitoli lavorano sull'obiettivo del combustibile secondario da produrre nel ciclo dei rifiuti l'emendamento della legge finanziaria regionale era stato approvato a maggio a fine anno invece il dipartimento della pianificazione strategica ha stanziato il capitolo di spesa per oltre 300 mila euro come chiesto dal parlamentare Ars Nuccio di Paola sono fondi destinati alle pazienti oncologiche per un contributo all'acquisto delle parrucche una decisione finalizzata ad andare incontro all'esigenza dei pazienti che devono sostenere il ciclo di cure contro le patologie tumorali per l'esattezza il capitolo a somme per 309 mila euro un sostanziamento importante pure per le pazienti in cura nelle strutture locali da anni c'è una forte sensibilizzazione sul tema attraverso l'attività delle volontarie di Farc e Co la cronaca giudiziaria durante perquisizioni in un'area di parcheggio per mezzi pesanti fu trovata una pistola all'interno di un furgone a conclusione dell'istruttoria sono state pronunciate tre assoluzioni la perquisizione condotta dai carabinieri in una rimessa nei pressi di Roccazzelle risale a quattro anni fa all'interno di uno dei mezzi parcheggiati fu trovata una pistola e il sequestro si è stese inoltre a munizioni a conclusione del dibattimento il giudice Miriam Damore ha disposto la soluzione per i titolari dell'area usata come parcheggio di mezzi da lavoro e non solo con la formula per non aver commesso il fatto sono stati assolti Giuseppe Susino ed Emanuele Susino per i quali subito dopo la perquisizione scattarono gli arresti nel corso dell'istruttoria dibattimentale non sono emerse conclusioni che potessero collegare la presenza dell'arma e delle munizioni ad una loro volontà si sono detti del tutto estranei a quello che venne ritrovato dai militari dell'arma sono cadute ulteriori contestazioni compresa quella di ricettazione rispetto all'origine di diversi mezzi parcheggiati in quell'area i difensori gli avvocati Giuseppe Nicosia e Vittorio Giardino durante l'intero dibattimento hanno proposto una versione del tutto diversa da quella dell'accusa gli stessi imputati riferirono di non aver mai saputo nulla dell'arma il PM Pamela Cellura ha concluso a sua volta per l'assoluzione stessa decisione stessa formula assolutoria per un altro imputato Giuseppe D'Angeli difeso dal legale dall'ilà di Dio è stato accertato che si trovava in quella rimessa solo per ragioni di lavoro trattandosi di un meccanico non è stato provato alcun coinvolgimento nei fatti ormai tre anni fa invece venne emessa una sentenza di condanna nei confronti di un altro coinvolto nella vicenda che optò per il rito abbreviato risultò l'effettivo utilizzatore del mezzo a bordo del quale venne trovata la pistola e ammise di aver avuto la disponibilità dell'arma torna dopo tre anni di stop a causa della pandemia il presepe vivente a Santa Maria di Betlem all'allestimento del presepe sul piazzale antistante alla chiesa hanno contribuito tutti i parrocchiani e in particolare il gruppo di scout composto da oltre 150 ragazzi sentiamo torna il tradizionale presepe vivente a Santa Maria di Betlem dopo tre anni di ferma a causa della pandemia finalmente possiamo riprendere ormai le nostre tradizioni consolidate ormai nel tempo in questa nostra bella realtà parrocchiale già da diversi anni che si realizza questa grande opera dove vediamo la collaborazione di tutti i parrocchiani a partire già dal mese di ottobre e vediamo anche quelle particolarità come vengono curate e quella dedizione che danno appunto per ogni singolo elemento per raccontare ovviamente l'evento di Gesù Cristo mi ha fatto un enorme piacere ci riscopriamo sempre più comunità soprattutto nel periodo natalizio mancava da qualche anno perché c'è stato tutto il periodo in cui siamo col covid siamo dovuti rimanere a casa e quindi sono veramente contento di essere qui questa sera e faccio i complimenti a tutta la comunità di Santa Maria di Betlem che ha realizzato con abnegazione ed impegno questo bellissimo presepe vivente anche quest'anno con la grande passione di tutti i parrucchiani Santa Maria di Betlem rimette in moto questo meraviglioso presepe vivente tutti i parrucchiani hanno contribuito con grande partecipazione e ora finalmente siamo all'apertura quanto tempo ha richiesto l'allestimento di questo presepe? sì quest'anno abbiamo fatto un buon rilento perché più di un mese di lavoro però l'abbiamo fatto con entusiasmo dove ci sono stati tanti giovani che hanno contribuito soprattutto i giovani che hanno contribuito a lavorare e fare queste capanne e questi allestimenti una cosa molto bella è che si richiama alle tradizioni della chiesa che è una cosa molto importante cose che piano piano si stanno perdendo perché non c'è il ricambio generazionale i genitori non molti genitori non si prodigano per dare ai nuovi nati questo tipo di cultura perché ha deciso di partecipare a questo presepe? perché credo alla natività alla nascita anche tu oggi al presepe vivente cosa stai facendo? sto facendo il pastorello ma ti piace questa esperienza? sì mi piace tantissimo che impressione ti fa vivere come viveva Gesù? è stata un'esperienza molto bella perché tipo ognuno aveva il suo compito tipo stare con gli animaletti stare con i falegname è molto bello stare qua qual è la parte del presepe che ti piace di più? il pastore ti piace il presepe vivente? sì cosa ti piace? il bambino Gesù qual è la parte del presepe che ti piace di più? dove ci sono i cavalli tu sei vestito da angeletto? sì quindi sarei vicino a Gesù bambino? sì cosa ti piace di questo presepe? le pecore ti piace questo presepe? sì qual è la parte che ti piace di più? dove c'è Gesù bambino perché? perché perché Natale? appena 12 anni è un primo singolo pubblicato a inizio settimana su tutte le piattaforme digitali le mie paure alla voce di Giuditta una giovanissima cantante gelese che sta collezionando importanti riscontri la distribuzione del singolo è della Bilib Music per Giuseba Publishing Giuditta Cascino ha scritto un brano insieme al compositore Giovanni Segreti Bruno è stato arrangiato da Davide De Blasio il percorso canore è iniziato due anni fa con la maestra Monia Placenti ha partecipato al primo concorso all'età di 11 anni classificandosi al primo posto ad Arte Roma a maggio dello scorso anno invece tra i partecipanti del concorso nazionale Gelas Music riuscendo a raggiungere il terzo posto quest'anno è arrivata alle fasi finale di Fuoriclasse Talent che le ha permesso di avere l'attenzione di Giuseba Publishing è già tra le finaliste di un altro concorso nazionale fissato però per settembre del prossimo anno in Abruzzo la voce di Giuditta ha convinto Ivano Traut tra i fondatori del progetto Fuoriclasse Talent che la reputa un potenziale talento tra i migliori della sua età l'ha bolluta in altre esibizioni il sogno di Giuditta è appena iniziato Francesco Chiofalo ex pupo e tronista è stato ospita a Gela dalla GR Management ieri ha animato la serata in uno dei locali della Piazza Salandra a cui ha partecipato un gran numero di giovani sentiamo Francesco Chiofalo è tornato a Gela l'ex pupo e tronista ospite della GR Management di Gianluca Russotti ha animato la serata in uno dei locali di Piazza Salandra gremita di gente nonostante il freddo è stato bellissimo c'era un sacco di gente ci siamo divertiti da morire e poi insomma qua in Sicilia è sempre un piacere venire poi quando organizza Gianluca Russotti ci si ammazza sempre delle risate quindi ci siamo divertiti tu sei tornato a Gela dopo averla vista nel periodo di Halloween sì l'ho vista nel periodo di Halloween nel periodo estivo Gianluca mi fa venire spesso qua mi fa venire spesso qui da queste parti sì è sempre un piacere venire ovvio ieri avete rianimato un pub che da tempo era un po' morto beh ma noi serviamo anche a questo insomma questo tipologia di eventi servono proprio appunto anche a far conoscere diciamo alle persone magari un pub un locale un evento un ristorante che magari si conosce poco e renderlo più conosciuto appositamente che poi quando anche non c'è più l'ospite il locale funziona in organico di se stesso la carriera televisiva di Francesco inisce a Tendation Island guadagna popolarità e partecipa a uomini e donne tentando di riconquistare Selvaggia Roma attraverso delle esterne organizzate dallo studio ha partecipato nel ruolo di Pupo all'edizione 2022 del programma La Pupo e il Secchione condotto da Barbara D'Urso su Italia 1 la sua ironia e il suo intercalare romano hanno conquistato il pubblico che lo ha trovato sempre molto simpatico e ha cominciato a seguirlo sui social attualmente Francesco conta oltre un milione e mezzo di follower su Instagram cosa ne hai pensato di Gela? che bellissima che bellissima il cartolo si mangia bene infatti sono sempre a dieta mannaggia qua ogni volta si è a dieta è complicatissimo poi Gianluca mi porta sempre in ristoranti pazzeschi quindi è un piacere insomma si mangia bene è bella è una bella città la Sicilia in generale è stupenda Gianluca ci ha promesso delle news importanti da parte mia è che le news importanti insomma posso dire forse probabilmente mi rivedrete in tv presto Gianluca Russotti dopo anni di assenza da Gela ha deciso di tornare e di investire nella sua città natale i biglietti per il primo capodanno a Gela organizzato al Palalivatino hanno riscosso grande successo e molto presto saranno sold out dopo l'intervista che ti ha visto protagonista della propaganda per il capodanno a Gela una novità certo oddio Francesco non è proprio una novità però è una novità come hai detto tu ultimamente nelle nostre chiacchierate il Russotti si fa sentire quando torna a Gela sai che me lo stanno dicendo in tanti quindi mi fa sempre onore perché dopo tanti anni vorrei dire che la gente ancora ti segue quindi vorrei dire che hai lasciato un qualcosa di buono per il paese continuerai a creare eventi per questa città sì ci sono tante news anche in estate già ci sono 3-4 eventi che dovrebbero portare un bel po' di movimento a Gela per quanto riguarda il capodanno come sta procedendo molto 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 bene dalle prospettive che avevo già abbiamo superato le 600 preventive lo sport Scherra e Brasile si ripetono e la SS di Gela ufficialmente campione in inverno nel girone C del torneo di promozione diventa 4-0 il finale all'aldo binanti tra Gimnica Scordia ed SS di Gela ai gol di Scherra e Brasile di domenica scorsa sono seguiti le reti di Scherra e Brasile la partita la ricordiamo era stata sospesa domenica scorsa per un malore al direttore di gara pochi minuti dopo l'avvio della ripresa senza Floridia Mauro e Minolfi il tecnico Faucian ha schierato Fiore al rientro dopo l'infortunio italiano al centro della difesa accanto a Tuve gara senza storia anche oggi pomeriggio dopo pochi minuti il gol di 3-0 di Scherra a metà ripresa Caci ha preso il posto dello stesso Scherra e Brasile di Ascia e proprio Brasile al quarantesimo ha realizzato il gol del poker della doppietta personale Gela chiude quindi a 31 punti frutto di 9 vittorie e 4 pareggi con 30 gol fatti e 9 subiti è il miglior attacco del campionato il mister bianco 2011 a 2 punti nella classifica a Cannonieri Scherra e 8 gol e Ascia a 5 è tutto il nostro telegiornale termina qui per gli altri approfondimenti vi rimandiamo al quotidiano di Gela.it adesso vi lascio le previsioni medio grazie per averci seguito grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.